Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera all'almanacco italiano dal 1762, venerdì 28 giugno. A rete, giornata tranquilla anche troppo per voi. Comunque considerando che siete un po' confusi, questa pausa di silenzio e riflessione cade a fagiolo. Se non vi sentite a posto con la coscienza, fate qualcosa per gli altri e starete subito meglio. Poro. Superata l'impasse, molte novità vi attendono su vari fronti, affetti, lavoro, amici. Piacevoli fuori programma e piccanti sorprese, chiaramente nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco, inviti inattesi, proposte interessanti. Gemelli, con Marte quadrato alla luna in pesce, oggi le cose non girano e gli sforzi servono a poco. Fatevene una ragione e limitate al minimo i danni, insolitamente vi lasciate fuorviare dalle emozioni con il risultato che perdete completamente la bussola. Cancro, ecco una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza, l'intuizione funziona a meraviglia facendovi intravedere soluzioni insperate. Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura, sorprese piacevoli. Leone, l'ingresso di Venere nel vostro cielo fa piazza pulita degli ostacoli e vi restituisce il ruolo da protagonisti, connaturato alla vostra endole. Cimentatevi in imprese ambiziosi, in avventure del cuore e dello spirito, la forza ora non vi manca. Vergine, messa alle strette da Marte, la Luna in pesci genera disagio nella sfera emotiva. Sensazione di inadeguatezza in pubblico o con gli estrani, di fronte ai minimi contrattempi vengono a galla le vostre ansie, ma non cominciate a piangervi addosso. Bilancia, ottima per le vostre sorti affettive e professionali la nuova posizione di Venere. Mosse coraggiose frutteranno guadagni su tutti i fronti. Non spaventatevi di fronte all'impegno che nuove responsabilità comportano chi non risica, non rosica. Scorpione, incontri, emozioni e esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente imprevisto, la giornata si prospetta piacevole e cambiamenti positivi su tutti i fronti. Sagittario, niente di strano se oggi la situazione vi appare tutt'altro che rosea. In realtà i problemi sono più interiori che reali, frutto di ansia e timori. Sgobbate duramente per concludere il lavoro, ma gli sforzi naufragono miseramente, domani andrà meglio. Capricorno, in se stile a Plutone, la Luna in pesci vi regala una giornata allegra e stimolante, ricca di propositi costruttivi e di sentimenti profondi. Una rimpatriata con gli amici di vecchia data per finire in bellezza sarà una serata piacevolissima. Acquario, fuori e dentro di voi gradualmente l'atmosfera si rasserena. Le pressioni di cui siete stati oggetto si allentano, torna la pace in famiglia. L'amore potrebbe fare o aver già fatto la sua comparsa, anche se ancora è meglio non sbilanciarsi. Esce la Luna nel segno, cala le migliori carte negli affari e nelle finanze, mentre latita sul piano delle energie fisiche e mentali. La grinta vi manca un po', mentre l'intuito funziona molto bene. Saprete sempre come cavarvi l'impaccio.